Abbiamo il piacere oggi di presentare l'ultimo telecomando universale introdotto sul mercato da One4All, che è lo SmartControl, un telecomando dalle linee molto eleganti, decisamente un prodotto affinato, con delle caratteristiche tecniche estremamente interessanti. Innanzitutto, è il primo telecomando universale in grado di pilotare dispositivi digitali innovativi, quali le docking station per MP3, per iPod, lettore DVD Blu-ray, console per videogames, quali PS2 o Xbox, ed è un telecomando soprattutto estremamente facile da configurare. Abbiamo cercato con questo prodotto di privilegiare soprattutto la facilità di configurazione iniziale. Il cliente deve semplicemente premere il tasto del dispositivo che vuole configurare, in questo caso abbiamo selezionato DVD, il tasto Magic, che è il tasto che seleziona la modalità di configurazione, e poi a ogni marca abbiamo associato un numero sulla tastierina numerica, quindi ad esempio in questo caso stiamo configurando un lettore DVD della Philips, il numero associato a Philips è 4, basta premere il tasto 4 e il nostro telecomando invia al DVD tutta una serie di codici relativi alla marca Philips finché non viene trovato il dispositivo giusto. Quando ha terminato quest'operazione il prodotto è configurato e possiamo tranquillamente accendere o spegnere il nostro lettore DVD. Come dicevo anche una caratteristica molto importante è il design, sempre di più il telecomando universale è un oggetto che teniamo in casa, in salotto, sul tavolino, ed è un oggetto che deve sposarsi con la linea dei televisori, con la linea dei DVD di ultima generazione, quindi deve essere un oggetto anche bello da vedere, elegante. Altre cose molto importanti in questo telecomando sono il fatto che ci sono già tre attività pre-configurate che sono guarda la televisione, guarda un film o ascolta la musica. Premendo uno di questi tre tasti il telecomando invia una serie di funzioni macro a diversi dispositivi contemporaneamente, nel caso ad esempio voglia vedere un film mi accende il lettore digitale terrestre o il lettore satellitare, il televisore e automaticamente me li configura. Quindi un telecomando che ha un design affinato, semplicissimo da configurare e oltretutto molto semplice da utilizzare. Abbiamo anche un elegante backlighting, ogni volta che premo un tasto praticamente la hotelina centrale di configurazione si illumina, quindi anche un telecomando che ha caratteristiche particolarmente innovative. La cosa molto importante è che tutte queste innovazioni vengano offerte a un prezzo al pubblico di 29,95 euro, quindi un prodotto con un prezzo estremamente aggressivo, estremamente competitivo e che viene venduto con un packaging molto elegante, molto bello, che tra l'altro richiama quelle che sono le caratteristiche principali di questo telecomando. Quindi il fatto di pilotare tutti questi nuovi dispositivi digitali, nuovi dispositivi media, come dicevo all'inizio, docking station per iPod, lettori MP3, console per videogiochi e soprattutto agile database per i lettori Blu-ray.